Ieri sono stato chiamato a un call center e si è spacciato per il mio fornitore di energia dicendomi come motivazione che qualche altro gestore avrebbe fatto un contratto a sua insapura. Noi abbiamo un partner di fiducia che queste cose non le fa e quindi ascoltate Radio Radio, ascoltate i nostri partner, tutti quelli commerciali che noi selezioniamo proprio per evitare questa storia delle truffe che è una cosa che a noi ci manda proprio al manicomio. Ma com'è possibile che uno Stato non ci difenda da questo? Ma che non lo sanno? Ma volete che dal Presidente del Consiglio in giù non sanno che vengono truffate le persone al telefono? Ma vogliamo vietare definitivamente i call center che sono diventati veramente un obbrobrio? Ci sono persone anziane che vengono chiamate, vengono anche spaventate. Ma come possiamo permettere in uno Stato civile che accade questo? Non si può più lasciare neanche un telefono cellulare in mano ad una persona più anziana perché lo chiamano in 2000, magari quello gli dice sì al telefono, magari la persona anziana ha intestato la casa piuttosto che l'utenza, l'utenza energetica intestata, telefonica eccetera. Viene chiamato, chiamata da uno di questi call center illegali ma che nessuno ferma perché magari quello sta in qualche paese strano e quindi non li vai a prendere e poi hanno dei contratti con le aziende le quali non vengono coinvolte perché? Perché quella dice ma io ho dato l'incarico a Tizio se Tizio si è comportato male mica è colpa... cioè è chiaro che creano poi scatole per evitare conseguenze ma questo va fermato, ma va fermato perché ripeto l'anziano che riceve una telefonata dice delle cose al telefono che poi questi le montano e dicono che quello ha fatto un contratto con lui gli arriverà una bolletta con una tramvata che la metà basta perché ovviamente chi fa pratiche di questo genere è un'azienda che sicuramente deve dare le tramvate, se sei un truffatore al telefono sarai un truffatore anche dopo, no? E quindi questo accade, accade questo, soprattutto alle fasce più deboli questo non doveva accadere, non dovrebbe accadere in un paese civile si devono tutelare le fasce più deboli delle persone dovrebbe essere vietato, vietato cioè lo Stato deve dire no, stop a questa pratica è una pratica, se io voglio mi informo e ti chiamo c'è la pubblicità tradizionale un'azienda seria, un'azienda seria fa quello che fa Four Wins con noi ci mette la faccia, nome e cognome del titolare viene qua in questo studio si siede di fronte a questo microfono, prende un impegno col pubblico e lo rispetta perché c'ha una faccia, un nome e un cognome fa pubblicità, noi possiamo controllare, analizzare e se siamo eticamente corretti accettiamo questo fatto di promuovere un servizio questi invece sono apolidi è gente che non sai manco da dove sta da dove ti chiamano ti chiamano i contratti telefonici cioè i contratti telefonici ma chi lo dice che sono stato io? dopo tu dovresti impugnarlo spendere soldi di avvocati ma una persona che vive di pensione non ce li ha questi soldi non ha la possibilità di rivolgersi a un avvocato, a un team per contrastare la truffa che gli è stata fatta ecco dove lo Stato deve intervenire per tutelare per questo noi più di questo non possiamo fare chi ascolta Radio Radio sentirà i nostri suggerimenti e ci mettiamo la faccia a noi ma agli altri che gli facciamo? come possiamo? passate parola l'unica cosa che mi viene da dire però cioè poi lo Stato è grande e c'è una sacca di persone tantissime che sono state truffate e che continueranno ad essere spolpate cioè gli elevano tutto pensioni, cose perché? gli arrivano delle bollette folli ma non perché loro lo vogliono loro hanno semplicemente risposto al telefono hanno commesso l'errore di rispondere a un numero che non conoscono non rispondete ai numeri che non conoscete attaccate se qualcuno vi vuole parlare e non è vostro amico e non è nella vostra rubrica e quindi il numero che appare è il numero anonimo vorrà dire che questa persona dovrà prima mandarvi un messaggio e dire sono Tizio Ecaio mi puoi rispondere perché ho cambiato il numero ma questo è alfabetizzazione quando hanno parlato invece di vietare ai call center di chiamare chi che sia è stato fatto c'è una norma che dovrebbe impedire e invece succede ancora che ci arrivano queste telefonate pur se noi ci iscriviamo nel registro di chi non vuole essere ma questo è lo Stato che deve intervenire che è io e io cosa posso fare succede poi che se tu richiami quel numero non puoi chiamarlo loro ti possono chiamare sapendo loro chi sei tu e tu invece non puoi chiamarli perché quel numero dice numero inesistente quando provi a richiamare qualcuno non hai fatto in tempo è un call center ma tu devi stare anche attento perché molte di queste possono utilizzare le parole che tu dici e montarle poi dopo con i sistemi computerizzati per dire che tu hai fatto un contratto con loro ti mandano la bolletta tu la devi pagare è un casino perché poi tra l'altro anche se tu ti accorgi della truffa caro Francesco e cambi gestore di nuovo ma se non hai pagato quella bolletta non te lo cambiano per cui è un giro di truffe colossali hai capito? i contratti telefonici non dovrebbero esistere i contratti telefonici se io sono un'azienda vengo da te ci metto la faccia io controllo chi sei prima di fare un contratto e lì c'è la mia firma quella vera non è una cosa telefonica fra un po' se noi accettiamo questo fatto i contratti telefonici che le mail hanno valore legale tutto questo se noi accettiamo questo nel futuro noi ci troveremo veramente con le spalle al muro chiunque potrà ingannando i dati manipolando quei dati dire e far dire che noi abbiamo detto ho fatto una qualsiasi cosa una qualsiasi cosa lo capiamo sì o no questo fatto lo capiamo capiamo che noi stiamo accettando che delle macchine addirittura possono certificare cose che noi vogliamo o non vogliamo un po' come il GDPR che ci dice accetti accetto 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 il GDPR è questa norma europea fighissima con la quale noi siamo tutelati perché noi diamo il consenso informato perché ci fanno leggere 270 pagine di cose e poi sotto scritto accetto altrimenti non puoi neanche accendere il cellulare non te parte proprio quindi tu che fai scorri non leggi un cavolo vai peraltro anche se alcune cose facoltative tu avessi cliccato no non voglio e poi fai invia questo tuo no non voglio finisce in un server che è il loro e magari nel tragitto può diventare un si voglio qual è il notaio o il testimone o la persona fisica che può dire sì Fabio Durante o Francesco Vergovic avevano detto non voglio e quello dice no ma nel mio server c'è scritto che tu hai voluto hai cliccato hai accettato dice no ovviamente non ho accettato niente come no ecco qui nel database c'è scritto c'è il flag c'è il segno di spunta c'è il bit a 1 che vuol dire che tu hai accettato dice ma io non ho accettato niente sì qua c'è quindi avvocati ma chi ce l'ha i soldi per spendere in avvocati e come lo dimostri che era vero o non vero cioè voglio dire che la nostra società il fatto stesso che ha accettato tutte queste cose digitali che passano per il digitale e vi parla uno che l'informatica elettronica è la mia materia però non così non per fare questo non utilizzata per fottere la gente scusate eh no non va bene non funziona così cioè e allora dovremmo rivedere un po' tutto perché tanto non se ne esce non se ne esce ma chissà quanta gente che ci sta ascoltando ha subito quello che stiamo dicendo le telefonate dei call center i cambi di contratto che nessuno li voleva il cambio di contratto che io non voglio perché non ho capito perché poi sono tutte supercazzole nessuno le capisce questo è un tema e mi meraviglio anzi se ci fosse Alessandro direbbe mi meraviglio della tua meraviglia ancora una volta ma mi meraviglio continuo a meravigliarmi che non dico i i politici che vabbè sui quali a noi non piace esprimere un giudizio valido per tutti cioè fare di tutta erba un fascio ovviamente non ci piace però è chiaro che l'ignoranza regna sovrana perché io non vedo qualcuno che si leva gli scudi